ciao a tutti grazie per aver scelto questa sessione benissimo abbiate fede ok mi chiamo maurizio mangione sono più conosciuto nel web con lo pseudonimo di granze come potete vedere faccio un po di cose sono il fondatore di milano js che è lo javascript user group di milano attualmente è lo user group javascript più grosso in italia poi potrete prendere un po di adesivi e un po di spille che sono la parte più bella del talk sono anche il fondatore di js girls che è un workshop dedicato alle ragazze per avvicinare le ragazze al mondo della programmazione visto che purtroppo ce ne sono troppo poche sono google developer expert specializzato in polymer anche se non è il topic di questo talk e lavoro come manager in accenture anche se non mi vedete in giacca e cravatta sembra incredibile bene siccome a me piacciono molto le conferenze come questa mi piace andare a parlare alle conferenze ma mi piace anche andare ad assistere ascoltare gli altri tolka le conferenze gli amici del group ci hanno dato questo codice del 10 per cento di sconto per gsd extra a maggio e anche lì farò un talk che sarà diverso da questo bene questo era il titolo originale del mio talk from chip tricks to real magic ovviamente in molti mi hanno fatto notare che con un titolo del genere non sarebbe venuto probabilmente nessuno perché effettivamente non vuol dire molto ha un suo senso ma il senso magari lo si capisce poi verso verso la fine del talk e non prima quindi diciamo che a livello di marketing non sarebbe stato il massimo ci vogliono sempre delle buzzword quella che sta andando molto ultimamente è questa che sta per progressive web apps come tante cose che sono delle buzzword tutti le conoscono ma non tutti sanno cosa effettivamente queste queste parole significano quindi diciamo che per cercare di focalizzare meglio il nostro talk visto che in progressive web app ci stanno dentro un sacco di cose e poi le vedremo cercheremo un filo conduttore che ci porterà attraverso tutto questo talk questo filo conduttore sono le performance le performance sono un argomento che sta a cuore a tutti sia che si sia di back end sia che si faccia front end sul lato del front end spesso le performance come per esempio anche i test e altre buone pratiche e cose a cui fare attenzione vengono un po trascurate questo forse anche perché negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione così grossa del front end sono sono create sono entrate diciamo nel nostro mondo veramente un sacco di tecnologie di tool eccetera che spesso si cerca di far andare bene le cose una volta che funzionano ci dimentichiamo che poi devono essere comunque anche performanti e quindi funzionare bene anche quello delle performance però è una parola molto ampia quindi dire performance si dice tutto e niente quindi cerchiamo di andare ancora un po più nel dettaglio cerchiamo intanto di dividere le performance in due macro aree le performance reali e le performance percepite secondo me questi sono i due tipi di performance che ci interessano quando sviluppiamo un'applicazione andiamo a vedere cosa vuol dire reali e percepite è molto semplice le performance reali sono quando il tuo sito la tua applicazione è veramente veloce è realmente veloce quindi quelle sono performance reali le performance percepite invece sono quando il tuo sito l'applicazione in realtà non è così veloce però lo sembra e sembra quasi una magra consolazione ma vedrete che in realtà non è così io ho assistito veramente a tantissimi talk su performance perché è un argomento che a me ha sempre interessato tantissimo in tutti i talk che parlano di performance ovviamente abbiamo sempre una slide con delle analisi delle metriche e cose del genere perché sono quelle che ti dicono ah guarda se usi questa cosa sei più performante dell'ottanta per cento eccetera eccetera io non volevo essere da meno quindi ho fatto anch'io una slide con dei grafici in questo primo grafico si vede chiaramente la correlazione tra il numero di gattini e il peso delle pagine sul web siccome questa cosa non mi era molto chiara questo dato non mi era molto chiaro ho deciso di fare un sondaggio tra migliaia di sviluppatori chiedendo il perché di questa correlazione perché per me era incomprensibile e il 58 per cento ha risposto che non è idea il restante 42 per cento non aveva capito la domanda tutto questo perché ve lo sto dicendo perché da questo studio recentissimo si evince che la maggior parte delle foto durante i talk avvengono mentre lo speaker proietta dei grafici quindi questo vuol dire che qualcuno di voi adesso starà facendo delle foto poi le pubblicherà sui social e la gente dirà cacchio chissà che bel talk che mi sto perdendo guarda chissà che metri che starà tirando fuori in quel momento gli speaker per spiegare insomma le performance invece non è assolutamente vero questo solo per dirvi che la percezione dell'utente è molto importante facciamo un esempio più calzante e soprattutto più vero è un brutto esempio questo coso era il mio sito all'inizio del 2001 erano altri tempi adesso avete capito perché mi sono dato al codice non alla grafica e una cosa che si faceva ai tempi vedete mancano un po' dei pezzi perché l'ho tirato giù dal web archive quindi questo è quello che sono riuscito a ottenere mancano un po' dei pezzi però si notano un po' di cose la prima forse è il numero di icq che determina la mia vecchiaia il secondo forse non si legge tanto bene sotto a the pixel che era il titolo avevo scritto beta version ancora prima che lo facesse google quindi ero già molto avanti la terza cosa è che questa pagina è una grande immagine è un'immaginona ritagliata e non si vede ma come potete immaginare questi pezzi erano ben messi in delle celle di tabella perché andavano molto di moda per il layout ai tempi bene perché si faceva questa cosa ok le splash page andavano di moda però effettivamente quasi tutti avevano il 56k e quindi fare praticamente un full screen con un'immagine grossa così non era una bella idea però non ce ne fregava niente noi volevamo farlo perché era così bella così attractive per l'utente che noi volevamo assolutamente fare questa cosa però era lenta cioè vedevi questa immagine si caricava si caricava super lenta e la gente stava lì ad aspettare vabbè un po' era rassegnata perché a quei tempi avevamo il 56k quindi non è che potevamo farci molto però a qualcuno è venuta la bella idea di dire ma se noi spezzettiamo questa immagine grossa in tantissimi pezzettini quindi la pagina carica più veloce non è assolutamente vero la pagina ci metteva di più in realtà a caricare però la percezione è che fosse più veloce e quindi questa era un'ottimizzazione che si faceva ai tempi di fatto anzi ottenevamo quasi il contrario di quello che volevamo perché di fatto la pagina ci metteva poco di più però la percezione dell'utente effettivamente è che fosse più veloce quindi quella era una delle ottimizzazioni che si facevano ai tempi per fortuna non siamo più nel 2001 siamo nel 2016 ormai al termine e dal 2001 al 2016 sono venute fuori diverse cose che da una parte ci hanno complicato la vita perché ovviamente le applicazioni sono diventate sempre più complesse quindi più pesanti dall'altra però abbiamo anche un sacco di tool che ci assistono nella nostra ottimizzazione abbiamo imparato che esiste un sito che si chiama page speed insight dove io vado inserisco l'url del mio sito schiaccio un bottone e il signor google mi dice quali sono le ottimizzazioni che posso fare su quella pagina quali sono le cose che non vanno bene eccetera eccetera abbiamo un sacco di build tools quindi abbiamo grant abbiamo galp abbiamo un sacco di cose per diciamo gestire tutta la nostra applicazione abbiamo imparato che si possono fare gli sprite quei css abbiamo imparato tanto tempo fa abbiamo imparato che si possono minificare i nostri i nostri assets ottimizzare le immagini eccetera eccetera non per ultimo quindi abbiamo conquistato diciamo una maggiore consapevolezza di come trattare le applicazioni web quindi io mi dico ma dopo tutte queste cose che abbiamo imparate come mai siamo arrivati a questo? questo è la cosa che vediamo più spesso quando parliamo di single page app ormai sono quasi tutte single page app soprattutto su mobile la cosa che vediamo di più è questo questo loader uno dei motivi è sicuramente questo ovvero che ad oggi a novembre di quest'anno 2m4 è la media del peso di una pagina e vi dico che è la media perché se andate su siti anche famosissimi italiani andate su non so qualche quotidiano online e provate a vedere quanto pesa la pagina è molto di più di 2m4 quindi spesso noi come sviluppatori siamo lì e cerchiamo di fare veramente un super fine tuning della nostra applicazione e usiamo webpack 2 perché c'è altri shaking anche se in beta perché così riusciamo a strippare le funzioni le cose che non usiamo e quindi riusciamo veramente ottimizzare tutto però se poi ovviamente i contenuti editoriali sono tantissimi non ci possiamo fare fare molto e spesso quello non è sotto il nostro sotto il nostro controllo quindi che fare c'è una soluzione a questo problema ce ne sono diverse intanto cercare ancora di andare ad agire su quella che è la percezione di performance dell'utente immagino che molti di voi conoscano quello che è il critical rendering path ovvero cercare di renderizzare la pagina non tenere 5 secondi la pagina bianca e poi pom esce il sito ma cercare di renderizzare in maniera progressiva la pagina questa cosa si fa in varie maniere cerchiamo per esempio di non usare script che bloccano l'esecuzione della pagina cerchiamo di spostare determinati assets oppure possiamo usare una cosa che viene chiamata app shell architecture che ci permette di avere diciamo un primo inizio di pagina dove magari abbiamo il nostro header qua adesso ovviamente io faccio gli esempi su mobile perché mobile ovviamente è sempre la situazione più critica quando si parla di performance possiamo avere quindi la nostra header con il nostro menu magari avere anche già il menu che si apre prima ancora di caricare tutti i contenuti poi eventualmente arrivano anche i contenuti il problema vero però è questo soprattutto su ovviamente su mobile è quello di avere una connessione wifi che ci dice sì sei connesso ma in realtà non funziona quindi questo è un grosso problema ma è un problema in realtà che possiamo avere anche su desktop perché spesso uno dei problemi veramente veramente grossi è la latenza quindi il tempo che percorre da quando io faccio la richiesta quando questa arriva al server e poi questa deve ritornare indietro spesso questa latenza per mille mille motivi è alta e quello è un grosso 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 problema quindi torniamo alla nostra buzzword e vediamo effettivamente cosa sono le Progressive Web Apps e come possono aiutarci le Progressive Web Apps sono un insieme di tecnologie molto molto interessanti qui ce ne sono alcune le specifiche sono ancora in divenire stanno ancora sviluppando nuove API su queste specifiche una delle cose più interessanti è quella di avere il supporto per l'offline il supporto push notification è ovviamente altrettanto interessante abbiamo il background sync e poi una cosa che sicuramente non è comparabile con le prime tre ma che nell'insieme è un grande valore aggiunto e quindi la possibilità di aggiungere la nostra applicazione che in realtà è un sito sul nostro home screen con quell'icona e quindi lanciarla come un'app quello che potete notare da queste feature è che sono feature che abbiamo sempre avuto praticamente sulle app native quindi quello che si sta cercando di fare è colmare il gap tra quelle che sono le app native e quello che invece è il web uno dei vantaggi ovviamente è che io non voglio scaricare e installare un'app nativa per qualsiasi cosa quindi in questo caso qua se noi abbiamo una Progressive Web Apps ovviamente possiamo trarre vantaggio di alcune API che sono praticamente identiche a quelle native però semplicemente seguendo un link il core diciamo la parte principale delle Progressive Web Apps sono sicuramente i service worker i service worker sono un nuovo standard quindi non stiamo parlando di una libreria ma stiamo parlando proprio di una cosa insita nel browser che ci permette di intercettare le chiamate e di fare come gli altri worker del browser delle operazioni che non vanno sul thread principale cosa vuol dire? tutti sappiamo che JavaScript è single thread ha un thread solo i service worker come i web worker in realtà lavorano per conto loro quindi noi abbiamo possibilità di fare delle operazioni dentro questi service worker e non intaccare il thread principale dell'esecuzione della pagina questo ovviamente è ottimo perché quindi non si vanno a intaccare le performance quindi del rendering, dell'esecuzione, della valutazione degli script ma a parte facciamo i nostri calcoli e facciamo tutto quello che dobbiamo fare appunto per attivare il service worker eccetera che adesso vedremo questo slide la potrei chiamare spiegare il service worker a mia nonna di fatto questa è la spiegazione più semplice cos'è il service worker? dove sta? cosa fa? il service worker è una sorta di proxy sta in mezzo tra me e internet tra il client e il server la cosa che fa il service worker come ho detto è intercettare le chiamate cosa che non era possibile fino ad ora non era possibile farlo fa un po' paura detta così il fatto di poter intercettare le chiamate ma non abbiate paura perché i service worker funzionano solo sotto HTTPS quindi solo su siti sicuri andiamo un po' nei dettagli e andiamo a vedere effettivamente il service worker come funziona nel mio main.js diciamo mi basta aggiungere queste due righe di fatto quello che vado a fare come prima cosa è fare il check per vedere se i service worker effettivamente sono presenti sono supportati dal browser che sta renderizzando la mia pagina perché ahimè non sono ancora supportati da tutti i browser quindi diciamo che questo è un po' quello che dà il progressive a progressive web app perché stiamo parlando alla fine di progressive enhancement noi facciamo feature detect se il browser supporta questa feature ne traiamo vantaggio se non la supporta l'utente che sta usando un browser appunto che non ha il service worker comunque avrà l'esperienza utente che aveva fino a prima quindi noi stiamo cercando di dare qualcosa di più agli utenti che invece supportano questa tecnologia quello che vado a fare non è altro che registrare un service worker registrare un service worker non vuol dire altro che lì c'è un file quello è il mio service worker che contiene tutte le istruzioni necessarie per fare le operazioni che voglio fare il service worker deve essere sempre un file a sé stante ok dentro il service worker cosa faccio? la prima cosa da fare è mettere un listener e quindi andare ad ascoltare l'evento di installazione del service worker dentro questo listener io posso fare diverse cose l'altra cosa che noi interessa ovviamente è creare una cache perché io voglio rispondere con una cache a questa chiamata quindi cosa faccio? creo la mia cache gli do un nome e definisco quali sono i file che devono entrare in questa cache per fare questo definisco un array di string che è comodo se ho pochissime risorse come in questo caso vado a cacheare un CSS un JS e la mia index in questo caso è semplicissimo una volta che ho definito quali sono le risorse da cacheare e il nome della cache con il metodo wait until quello che faccio è aspettare che quello all'interno di questo metodo finisca le sue operazioni perché è tutto asincrono e alla fine delle operazioni che vado a a gestire all'interno di questo metodo può avvenire effettivamente l'installazione quello che faccio è con cache open vado a creare questa cache con il nome che avevo definito prima e a questo punto quello che faccio è prendere tutte le risorse che avevo definite e metterle nella cache una cosa importante da capire è che la cache API che si usa con i service worker non è la stessa cosa della browser cache qual è la grossa differenza la grossa differenza è che la cache del browser è interessante va sicuramente usata ma come funziona io interrogo il server il server vede che quelle risorse che io sto chiedendo ce le ho già in locale ce le ho già in cache e le restituisce il problema è proprio questo che io devo andare a chiedere al server queste risorse perché devo fare il matching tra quello che sto chiedendo al server è quello che ho in locale e quindi ritorniamo sui problemi di prima se ho una connessione che non sta andando tanto bene se ho una latenza del server particolarmente alta per un qualsiasi problema comunque devo aspettare ma le risorse sono già lì io le risorse ce le ho già in locale però non le posso servire perché prima devo controllare se quelle risorse sono le stesse che io sto chiedendo sul server quindi la differenza è fondamentale perché la chiamata va al service worker e il service worker sa che le risorse che io ho appena chiamato ce le ha in cache e me le restituisce non va a chiedere al server almeno che io non voglia farlo e questa è la grandissima differenza quindi come si fa ad ascoltare le richieste che io faccio al browser quello che si fa è usare un altro event listener in questo caso si va ad ascoltare l'evento di fetch una volta che io ascolto questo evento posso anche lì rispondere in qualche maniera per farlo appunto uso il respond with che sta nell'oggetto di evento in risposta e in questo caso io potrei rispondere anche con una stringa io potrei chiamare una determinata pagina e rispondere con una stringa o potrei rispondere anche con dell'html per esempio basterebbe passare leader corretta e potrei quindi stampare in pagina un hello world per esempio o potrei anche restituire un file fisico che ho cacciato e ho sul mio sul mio sul mio disk e rispondere sempre solo con quello quello che invece noi vogliamo veramente fare in questo caso è rispondere con la cache perché è lì che ovviamente traiamo vantaggio e riusciamo a dare veramente un boost di performance quindi come facciamo quello che cerchiamo di fare è fare anche qua un matching perché alla fine ovviamente il principio è lo stesso per rispondere con la cache faccio un match e vedo se le cose che sto chiedendo ci sono nella mia cache se queste cose ci sono rispondo con la cache in questo caso altrimenti se non ci sono queste cose in cache non faccio altro che usare fetch prendendo event request in questo caso è l'url che io sono andato a chiamare quindi faccio la chiamata mando avanti questa chiamata dico ok in cache non c'è niente faccio questa chiamata e prendo queste risorse questa è una delle tante strategie di caching che si possono usare perché non è detto anzi sicuramente non è così non ci sarà una strategia di caching che io adotto per tutto il sito ma ci saranno delle strategie di caching per determinate risorse o per determinate rotte del sito andiamo a vedere quelle che sono diciamo le più comuni strategie di caching per capire anche quando effettivamente queste sono utili la prima che è la più semplice in assoluto è cache only questo cosa vuol dire che la mia pagina chiama il service worker e il service worker mi risponde con la cache sempre la chiamata non va avanti assolutamente detto così non sembra molto entusiasmante in realtà è una cosa che si usa parecchio e che è molto interessante da utilizzare si usa quando soprattutto sulle risorse statiche pensiamo ai css pensiamo ai jss che magari cambiano solo quando io rilascio una nuova versione dell'applicazione o una nuova versione del sito quindi in questo caso io mi creo questa cache a build time quindi vado a prendermi tutte le mie risorse che ho in quel momento che sto facendo la build e vado a creare la mia cache del service worker in questo caso appunto mi risponde sempre la cache questo vuol dire che quelle risorse saranno restituite in maniera istantanea praticamente per farlo è appunto semplicissimo perché quello che vado a dire al service worker è ascolta l'evento di fetch queste risorse ci sono in cache ok restituiscile appunto finita lì un altro approccio potrebbe essere invece quello di andare a fare la richiesta alla rete quindi vado a cercare delle risorse nuove se nel frattempo incorro in un problema rispondo con la cache come fallback questa è una cosa che si può fare ma c'è un grande ma nel senso che il time out del browser spesso può arrivare anche tipo a 20 secondi e quindi se devo aspettare 20 secondi per avere una risposta questo può essere un problema e quindi anche se poi le risorse ce le ho già pronte le restituisco comunque le restituisco dopo 20 secondi e non è non è il massimo per fare questa cosa anche è abbastanza semplice prendo feccio praticamente la mia la mia richiesta in caso di errore perché mi restituisce o una promise o un errore di rete quello che faccio è rispondere con la cache poi vedremo che c'è in realtà un modo di ottimizzare questo flusso che può essere comunque utile in molti casi l'approccio contrario invece è quello di andare sulla cache e se c'è un qualsiasi problema andare sulla rete questo è l'esempio esatto che abbiamo visto che abbiamo visto prima il primo che ho fatto vedere quindi prendo la response che è il match quindi della cache con la richiesta che vado a fare se questa response c'è bene altrimenti inoltre la richiesta al server cache del network scatena due chiamate quello che vado a fare è vado a rispondere subito con la cache quindi do subito all'utente un qualcosa di tangibile che sono ovviamente dati vecchi o potrebbero essere dati vecchi perché non è detto quello che faccio dopo è comunque mandare avanti una chiamata verso il server prendo questi dati se ci sono dati nuovi li restituisco all'utente e nel frattempo aggiorno anche la cache quindi invalido la cache di prima la aggiorno di modo che dal prossimo accesso quello che vedrò sarà la cache più aggiornata questo è un approccio molto molto interessante però va usato in maniera differente in base un po' al contesto per quale motivo se io ho facciamo l'esempio di twitter twitter è una timeline quindi è una cosa piuttosto semplice ho i miei tweet in ordine cronologico quando io apro l'app di twitter vedo i miei tweet vecchi cioè esattamente quello che succede vedo i miei tweet vecchi nel frattempo parte la chiamata verso il server mi aggiorna questi tweet e quello che fa va a pendere i tweet nuovi sopra quelli vecchi e mi mette una notifica lo scroll non si muove quindi non va a intaccare l'esperienza dell'utente io continuo a leggermi i tweet vecchi però mi dice guarda c'erano dei tweet nuovi mi le appende sopra e posso andarli a vedere nel caso si stia renderizzando non so tipo una leaderboard stiamo facendo un gioco abbiamo una leaderboard una classifica in questo caso possiamo tranquillamente far vedere quella vecchia fare la chiamata e poi aggiornarla perché comunque è una leaderboard che si deve aggiornare quindi nel senso non c'è niente di male a cambiare all'utente la pagina con i dati aggiornati bisogna stare attenti soprattutto quando l'utente sta interagendo con la pagina quindi se è una pagina con un form o comunque con degli oggetti con i quali può interagire l'utente lì ovviamente non devo assolutamente cambiare la pagina sotto ma magari mettere una notifica e dire guarda una nuova versione di questa pagina è disponibile e lì aspettiamo magari l'azione dell'utente per aggiornare la versione gestire il caching è difficile è sempre stato difficile lo è sempre stato perché comunque anche i metodi tradizionali di caching non sono per niente facili non è facile neanche la cache API che viene usata con i service worker la cosa però molto più interessante appunto che abbiamo il totale controllo di quello che facciamo e quindi gestiamo noi le richieste che vanno al server e decidiamo come rispondere e questo già non è poco siccome è molto molto difficile per fortuna abbiamo dei tool che poi vedremo che invece ci danno veramente una mano su tutta la tematica del caching il primo è service worker pre-cache è una piccolissima libreria fatta da Google che ci serve per far creare a questo tool il service worker per noi fare un service worker base è molto molto facile però prendiamo solo un esempio dove noi vogliamo fare un service worker che è veramente facilissimo vogliamo usare la strategia di cache only quindi con un paio di righe ce la caviamo semplicissimo però abbiamo un sacco di risorse da cacheare per un qualsiasi motivo abbiamo veramente mille e mille risorse da cacheare il problema è che come avevamo visto prima il nostro metodo che aggiunge queste risorse alla cache sospetta un array di string questo vuol dire che se io ho mille immagini dovrò scrivere a manina queste mille immagini che non è la cosa che noi vogliamo fare assolutamente quello che fa service worker per cache ci aiuta a fare è pensare lui a questa cosa perché? perché possiamo usare il globing quindi con dei fantastici asterischi possiamo dire prendimi tutti i css nella cartella css prendimi tutte le pagine html che ci sono dentro una determinata cartella e così via quello che fa lui è crearmi questo array di string è lunghissimo e io non devo farmelo a mano questo diciamo è proprio l'esempio base dove torna utile service worker pre cache anche se la nostra applicazione è veramente veramente facile l'altra libreria sempre fatta da google molto interessante è service worker tool box si può importare nel service worker con il metodo import script e quello che facciamo internamente è gestire in maniera super dichiarativa le nostre strategie di cache come vi dicevo prima abbiamo magari diverse strategie sia per risorse sia per url quindi magari se vado a una determinata pagina voglio che alcune risorse di quella pagina vengano cacheate se vado in un'altra invece non voglio farlo oppure voglio adottare strategie di caching diverso bene con service worker toolbox possiamo fare questa cosa in maniera molto semplice non so di chi di voi ha usato express con node praticamente funziona alla stessa maniera abbiamo un sistema di routing che è appunto con una get gli diciamo ok rispondi a questa rotta e rispondi in questa maniera nella seconda riga dopo l'import quello che vedete è se io vado sull'index di my app la strategia di caching da adottare che è il secondo parametro che io passo al get è network first quindi quello che farà andrà a chiamare la rete se la rete risponde se non risponde fa il fallback sul cache come avevo detto prima però questa strategia di caching può avere ovviamente dei punti negativi se fallisce solo dopo il time out passano 20 secondi comunque questa cosa non va bene in toolbox abbiamo la possibilità di passare un terzo parametro che sono le opzioni della richiesta in questo caso dire ok fai network first ma aspetta 5 secondi se dopo 5 secondi che comunque sono tanti se dopo 5 secondi la risposta non arriva dal server rispondi con la cache e questo torna sicuramente molto molto utile secondo me le progressive web app non sono solo service worker è sicuramente il core il service worker è la cosa più interessante e più complessa se vogliamo ma ci sono anche altre cose per esempio già mettendo un manifest json nella root avremo la possibilità di definire le varie icone della nostra applicazione abbiamo la possibilità di aggiungere all'home screen come dicevo la nostra la nostra applicazione e abbiamo un sacco di altre cose da tenere diciamo in considerazione come facciamo a sapere se la nostra progressive web app che stiamo costruendo va veramente bene per fortuna c'è un tool che è un'estensione di chrome che si chiama lighthouse che ci permette premendo un pulsante come facevamo prima con page speed insight sia andando sul sito sia da chrome dev tool andiamo sul nostro sito la nostra progressive web app pigiamo un pulsante e lui restituisce un report come questo e ci dà un sacco di hint su le cose che vanno bene su quelle che non vanno bene cosa potremmo fare per appunto migliorare la nostra progressive web app lo screen in questione è il report di milano js del nostro sito e come vedete fa 99 su 100 e se qualcuno di voi volesse sapere come mai lo score è così alto purtroppo sapete che i maghi non svelano mai i propri trucchi ultima cosa dalle 16 e 20 allo stand Accenture potete trovarmi lì per un'oretta circa se avete qualsiasi cosa da da chiedermi sui service worker sono lì a disposizione grazie ovviamente dovremmi potete